bene eh è stata la nostra non ci dice Chiro adesso non puoi spicciare e io e io e tu oi vai uno allarga uno allarga io giovedì ho giocato con 500 grammi o meno di sangue e ora è pronto io che avevo con un ronoccio caldiano in cielo allarghiamoci e tu mangia l'auto e si stasera tante star diste a fare un gol se vuoi giocare vorrei che hanno girato la testa se vuoi giocare vorrei che si girate la testa forza per favore 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 vai 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 uno a destino a sinistra forza calma prova rientra ste a marcare ste da parte Daniele ah è vero che è come te dice io allora grazie a te elei qua qua cosa faccio? sei so uno che avanza uno che avanza ah scusa non lo posso essere vettuto vettiamo vettiamo ora fammi rividiare vabbè sai che devi correre al contrario è la sua però non mangiamo salvo muovete salvo stanno cercando suggerisci pure l'altro stanno giocando male su stasera ma sta parendo la roba la tigna no tanto non duco no no no